Immaginare lo spettacolo che può fornire la baronessa, la cui le musine si ferma senza rumore davanti al village vanguard, per arruolare il luogo santo di un profumo di lusso impossibile, perché lei era là per questo, per ricordare a tutti quei grandi artisti che avevano offerto la propria vita al loro strumento, che c'è un fasto, un lusso, che ha il dovere di accompagnare il genio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.